Musica Edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo parlando della vicenda di Fabrizio Pellegrini che è diventato il simbolo della battaglia per l'ottenimento del riconoscimento della gratuità dei farmaci a base di cannabis. Questa mattina assieme al suo avvocato Vincenzo Di Nanna e al segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo è tornato alla ASL di Chieti per ripresentare la domanda per i farmaci, il servizio di Alfredo Primante. Dopo la scarcerazione anticipata ottenuta solo qualche giorno fa riparte dall'ospedale di Chieti la battaglia di Fabrizio Pellegrini per ottenere gratuitamente e legalmente la cannabis terapeutica che gli consente di alleviare le sofferenze che gli vengono inflitte dalla fibromialgia, una sindrome caratterizzata da dolore acuto e rigidità muscolare diffusa. Pellegrini racconta quella che egli stesso definisce un'odissea giudiziaria e il modo in cui in questi mesi di detenzione è riuscito a curarsi. Non è che ho coltivato da solo, non è che sono tornato a trasgredire la legge ma ho dovuto ricorrere appunto a un prescrittore medico che non fosse mio medico curante di base e quindi uno specialista che la possibilità appunto che mi ha dato di acquistare il farmaco in farmacia. Quanto costa il farmaco? In farmacia galenica il costo che si aggira oggi è di 9 euro. Prima invece quanto costava? Prima costava, due mesi fa, quindi, costava circa 16 euro e ancora prima arrivava anche al doppio. Pellegrini dal 2010 lotta per vedere riconosciuto il suo diritto alle cure, un diritto supportato dalla Costituzione ma che fino al 2014 ha cozzato con la legge che vieta l'uso di sostanze stupefacenti. L'ostacolo sembrava superato grazie alla norma che porta il nome di Maurizio Acerbo che ne è stato il promotore, una legge disattesa dal commissario ad acta per la sanità in Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dice il segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Il decreto del Presidente D'Alfonso si basa su un comma della legge che fu abrogato prima dell'entrata in vigore. Quindi è l'unico caso nel pianeta di una norma inesistente che cancella una legge invece in vigore. Tutto questo l'abbiamo fatto presente anche in un confronto in commissione con l'assessore alla sanità Paolucci che però nega con protervia l'evidenza e lascia la situazione così come sta. L'avvocato di Pellegrini Vincenzo Di Nanna che è anche il leader dei radicali abruzzesi ha accompagnato il suo assistito a depositare la domanda di importazione del farmaco all'asl di Chieti che in precedenza l'aveva rigettata. Di Nanna annuncia che in caso di ennesimo di niego la battaglia legale proseguirà in tribunale. Faremo protocollare la domanda laddove l'asl come già fatto in passato dovesse negare il diritto alla cura allora si renderà necessario un ricorso in sede giurisdizionale che potrebbe assumere la forma del ricorso d'urgenza per una violazione diretta dell'articolo 32 della Costituzione. Cronaca adesso perché i militari della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara hanno scoperto nei giorni scorsi un appezzamento di terreno adibito alla cultura della canapa indiana in contrada Colle Orlando proprio nel comune di Pescara. La piantagione di cannabis era abilmente occultata in una zona particolarmente impervia di difficile accessibilità da terra. Le piante di marijuana alte più di due metri e legate a palli di sostegno erano dotate di un impianto di irrigazione e accuratamente fertilizzate e pronte alla raccolta per la produzione di sostanza stupefacente da immettere poi ovviamente sul mercato. Ancora cronaca perché una donna di 79 anni, Elvezia Marcozzi di Santomero, è morta stamattina dopo essere stata avvolta dalle fiamme nelle vicine campagne in Val Vibrata ai confini di Tortoreto. I vigili del fuoco di Nereto hanno trovato il corpo senza vita mentre eseguivano le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area dopo un incendio che ha interessato un paio di ettari di terreno. Non è escluso che la stessa anziana avesse dato fuoco per ripulire l'area. Sul posto i medici del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso della donna sulla dinamica indagano. I carabinieri della locale stazione. E' ancora fiamme purtroppo perché i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di spegnimento di un incendio divampato ieri a Caramanico tra le contrade Riga e De Contra all'ingresso della Valle dell'Orfento in una zona impervia in cui si trovano pini e ginestre. Nella notte le fiamme, forse a causa del vento, hanno lambito anche alcune abitazioni che si trovano nella contrada Riga ma i vigili del fuoco sono riusciti per fortuna ad evitare il peggio. Al momento la situazione è sotto controllo. Questa mattina è tornato in azione il Canadair che sta effettuando dei lanci. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco, anche protezione civile, carabinieri forestali e volontari. La squadra mobile della questura di Pescara ha chiuso il cerchio di una vasta indagine sulla prostituzione nella zona della stazione centrale proprio del capoluogo adriatico. Dopo gli arresti del 29 aprile, ieri sono state eseguite altre tre misure cautelari a carico di altrettanti albanesi. Vediamo. Facevano entrare illegalmente in Italia giovani connazionali albanesi al fine di sfruttarne la prostituzione. La squadra mobile della questura di Pescara, in collaborazione con quella della questura di Modena, a seguito di un'attività investigativa molto lunga e complessa, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di tre albanesi, due uomini e una donna. Le tre misure sono state eseguite nella giornata di ieri a Pescara, a Maranello in provincia di Modena, dove si trovava la ragazza, e nella casa circondariale di Lanciano, dove uno dei tre era già recluso, il capo della banda. L'operazione è collegata a quella del 29 di aprile, quando la polizia stroncò un traffico di prostituzione gestito a Pescara da cinque gruppi di nazionalità albanese e romena. Quell'indagine è proseguita fino a ieri, quando sono arrivati gli arresti. La polizia ha accertato che il gruppo albanese continuava a fare entrare ragazze in Italia per avviarle alla prostituzione attraverso l'Albania e passando da Bari. In particolare il terzetto, in questa seconda fase dell'inchiesta, aveva sfruttato due ragazze albanesi e un trans-romeno. Una delle tre giovani, una ragazza di 24 anni, cittadina albanese, fu fatta arrivare in Italia il 13 aprile scorso, un'altra di 22 anni, nelle settimane successive. Sì, abbiamo documentato l'occupazione abusiva di un alloggio ater in via Rigopiano, dove alloggiavano alcune delle prostitute controllate da questi soggetti, e l'immobile poi è stato sottoposto a sequestro preventivo nel maggio scorso. Il modus operandi del terzetto era semplice e collaudato. Con la scusa di un permesso per motivi turistici, le ragazze venivano fatte arrivare in Italia via mare tramite Valona e poi avviate alla prostituzione. Sì, è un sistema già adottato in precedenza, spiegato bene nell'ordinanza del 29 aprile. Si simulava l'ingresso in Italia attraverso la frontiera marittima a Bari di queste ragazze per motivi di turismo. In realtà le ragioni per cui facevano l'ingresso in Italia erano tutt'altro che quelle turistiche. Attività che dopo gli arresti è proseguita comunque, forse prosegue anche adesso, ecco perché le indagini non sono finite. Attività che è proseguita dopo gli arresti e che prosegue tutt'ora, certo. Ci sarebbe un indagato per la morte della ragazza di 23 anni a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, schiacciata dal peso di un cancello in un'azienda agricola del posto. La procura di Avezzano vuole verificare se siano state le scarse condizioni di manutenzione del cancello a provocare l'incidente, il servizio di Daniela Rosone. Ci sarebbe un indagato nella vicenda della ragazza di 23 anni morta schiacciata dal peso di un cancello che si è sganciato mentre lo chiudeva a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, nell'azienda agricola La Villa, domenica sera, intorno alle 21. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Edoardo Comandè, si sono ovviamente concentrate sulla manutenzione del sistema di chiusura del cancello attraverso rilievi fotografici e planimetrici. La procura di Avezzano, con il PM e la dottoressa Lara Seccaccini, vuole vederci chiaro e probabilmente, grazie al materiale fornito dai carabinieri di Tagliacozzo, disporrà a breve giro una perizia per verificare se sono state le scarse condizioni di manutenzione del cancello in metallo a provocare l'incidente mortale. Intanto, sul corpo della giovane arbutina Mea, è già stata effettuata la ricognizione cadaverica con il medico legale. La salma della ragazza, che viveva con la sua famiglia all'interno dell'azienda agricola stessa, dove il padre lavorava come custode, è stata già riconsegnata alla famiglia per le esequie, che si svolgeranno in Macedonia, paese di origine della famiglia, che viveva in Italia ormai da anni e che nella frazione di Villa San Sebastiano era molto conosciuta. Una morte che infatti ha lasciato attoniti i cittadini della piccola frazione di Tagliacozzo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita nelle zone terremotate di Amatrice. Lavoro e scuola sono fondamentali, ha detto, ma ha promesso anche ai cittadini che a breve le macerie saranno portate via dai paesi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato nelle zone del terremoto, Amatrice, Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto. Il Capo dello Stato ha ribadito l'importanza della scuola e del lavoro. I cittadini hanno chiesto a Mattarella di aiutarli a far ripartire soprattutto le attività produttive, indispensabili anche per l'economia dei territori. Il problema delle macerie insiste ancora su quei luoghi e Mattarella ha promesso che a breve verranno portate via. Manca la rimozione, infatti, delle macerie cosiddette private. Naturalmente non è la prima che faccio e non sarà l'ultima, certamente. Si sono fatti questo luogo già di questo centro di raccolta e di attività, di alimentazione e di cultura. è significativo, sono fatti diversi passi avanti. La scuola, le abitazioni provvisorie, attività economiche, vi è un registro tanti passi avanti. Naturalmente è un punto per dire che vi sono tanti altri passi da fare ulteriormente e con velocità per rendere definitiva la sistemazione. occorre la ricostruzione, la rimozione delle macerie, la ricostruzione per far tornare non soltanto a Matrice, ma anche agli altri comuni che ho già visto, Arquata e Accumuli, alla condizione in cui erano prima. La Regione Lazio, siamo qui nel Lazio, ha fatto già un grande affidamento per la rimozione di tutte le macerie. Erano state rimosse quelle di edifici pubblici, che è più facile perché non richiedono il consenso o l'informazione ai privati. Si è fatto questo grande affidamento di lavori, con un grande finanziamento per togliere tutte le macerie adesso e quindi in prospettiva breve questo avverrà. Naturalmente anche quello è un altro passo, occorre poi la ricostruzione, che è il vero passo importante. Il capo dello Stato si è intrattenuto a lungo con i terremotati, fa effetto vedere quelle zone completamente dimenticate, come se i mesi non fossero mai passati. Per non parlare della situazione abitativa delle case, stridono con le soluzioni trovate all'Aquila nell'immediato post-sisma, tutti promettono l'impegno, i cittadini vogliono vedere finalmente i fatti, non vogliono essere dimenticati. L'interesse non scemerà, questo ha assicurato Sergio Mattarella. E' stata riaperta il traffico questa mattina la strada provinciale tra Rigopiano di Farindola e Vado di Sole, località che segna il confine con il versante Aquilano, a due chilometri di distanza proprio dall'hotel Rigopiano, dove lo scorso 18 gennaio nella valanga che travolse e distrusse l'albergo persero la vita 29 persone. La decisione sulla riapertura della strada è stata presa dopo un vertice in provincia a Pescara. Il servizio di Vestina News. Semaforo verde da parte della provincia di Pescara, sulla SP8 che collega Farindola a Rigopiano, da oggi è possibile transitare su quel tratto di strada ormai chiuso da sei mesi. Anche l'ultimo varco sulla SP8 è stato riaperto e quindi da adesso libera circolazione per raggiungere le località di Rigopiano e poi Campo Imperatore. Soddisfazione da parte del Sindaco Lacchetta, che venendo in conto le difficoltà della provincia di Pescara, sono stati in grado, come Comune di Farindola, di attuare immediatamente procedure di bonifica della strada, garantendo l'accessibilità ai mezzi di soccorso antincendio. La provincia ha attivato la procedura per la somma urgente, affidando alla ditta interverde di Stefano Pompili la manutenzione straordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza. Fa eco alle parole del Sindaco quelle di Domenico Mascia, proprietario della Tana del Lupo, di Rigopiano, e di Franco Marzola, del ristorante L'Ustrego. Purtroppo sì, noi più che altro abbiamo lottato per far riaprire questa strada, non per noi a livello economico, ma per non far morire proprio Rigopiano, specialmente per quella persona che ci credeva tanto a Rigopiano e ha investito tantissimo. Purtroppo sono andato troppo avanti a livello burocratico e tutto, ormai c'è rimasto solo un mese. Cerchiamo di andare avanti e cerchiamo anche per le persone che vengono su però di avere un minimo di rispetto anche per tutte le vittime. Ho cercato di spingere al massimo il fattore strade, rifaccio di nuovo l'invito a tutte le istituzioni di almeno darci un'aggiustata a queste strade che sono impraticabili, perché purtroppo l'albergo non c'è più e quindi siamo abbandonati veramente da tutti e a dimostrarlo sta che dopo sei mesi, sette mesi quasi riapre questa benedetta strada. Botta e risposta ieri in Commissione Vigilanza della Regione dove si è tenuta l'audizione del manager della ASL di Pescara Armando Mancini sulla vicenda dell'eli soccorso. L'uso del verricello e la piazzola di atterraggio dell'ospedale restano i nodi principali, il servizio di Andrea Costantini. Non si placa la polemica sul servizio di eli soccorso della ASL di Pescara. Una vicenda venuta fuori dopo le segnalazioni del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo sei mesi fa. Ieri si è tenuta l'audizione del manager dell'azienda sanitaria pescarese Armando Mancini nella Commissione di Vigilanza della Regione che però non ha granché risolto i nodi che restano essenzialmente due. Il primo la possibilità di usare il verricello e di compiere interventi in questa modalità. La ditta giudicatrice potrà montare il verricello ma non è il problema del montare il verricello o meno. Il problema è che poi gli operatori devono essere in grado e devono essere formati per poter naturalmente effettuare i soccorsi verricellati. Quindi adesso noi abbiamo già, il Dipartimento Salute e Welfare ha già prodotto una bozza per quanto riguarda il regolamento per la formazione di questi operatori che è all'attenzione del Comitato Regionale dell'Emergenza Abruzzo per eventuali suggerimenti. Questo regolamento potrà essere adottato anche a breve. A oggi, dopo sei mesi, siamo ancora a livello che è stato detto dal dottor Muraglia. Sta preparando una delibera, un regolamento, devono essere fatti corsi di formazione. Quindi ci ha assicurato che per fine anno tutto sarà a posto. Insomma, credo che sia uno stato di inefficienza e inefficacia più che visibile e alla portata di tutti. Il secondo aspetto è l'impossibilità di far atterrare l'elicottero sulla piazzola dell'ospedale di Pescara. L'aereo pesa 4.600 kg. Quella piazzola è testata per oltre 24.000 kg. Quindi, francamente, non si capisce. Comunque c'è un problema tra il Comune di Pescara e l'Alz di Pescara, solite cose all'italiana. E sta di fatto che la piazza non viene sistemata secondo quelle che sono le richieste oggi con le nuove norme antisismiche. E quindi l'elicottero per il momento è fermo, parte e arriva dall'aeroporto d'Abruzzo. Ci deve essere un'ambulanza, quindi altri costi, altro personale che viene utilizzato per una inefficienza e un'efficacia dell'Alz di Pescara, della direzione regionale e soprattutto dell'assessorato. Si è svolto due giorni fa il concerto all'alba a Prati di Tivo organizzato dall'Università di Teramo. 200 persone si sono ritrovate alle 6 del mattino per ascoltare la voce della cantautrice Erika Mou. Il rettore Luciano D'Amico svela che l'evento sarà istituzionalizzato dal prossimo anno. Le montagne del Gran Sasso hanno fatto da splendida cornice due giorni fa al concerto all'alba a Prati di Tivo per l'apertura della campagna di immatricolazioni dell'Università di Teramo. 200 tra studenti, personale e docenti dell'Ateneo si sono ritrovati alle 6 del mattino a quota 1800 metri per l'esibizione della cantautrice Erika Mou che per la circostanza ha anche presentato alcuni brani in anteprima del suo ultimo lavoro discografico che uscirà a dicembre. L'evento, che vista quello dello scorso anno tenuto al mare alla Torre di Cerrano di Pineto, è stato curato da Paisaggi Sonori, associazione nata proprio per valorizzare lo straordinario scenario naturalistico dell'Abruzzo unendolo all'arte e in questo caso alla musica. Sulla cima alta Erika Mou e la sua chitarra sono state accompagnate da Flavia Massimo al violoncello. Lo abbiamo inteso anche come un momento di pausa e riflessione, ha sottolineato il rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, che proprio in occasione del concerto lancia un progetto per il prossimo anno. Istituzionalizzeremo il concerto del primo agosto all'alba qui, di fronte al paretone del Gran Sasso, che dal prossimo anno però sarà la conclusione della scuola estiva che faremo dal 15 luglio al primo agosto. Il progetto prevede, lo dico adesso al sindaco di Pietracamela, al presidente del parco e al presidente della provincia, noi vogliamo a tutti i costi recuperare il rifugio di Luto, che è quello che vedete lì sopra, quella bellissima costruzione, e vogliamo farne una sede estiva per l'Università di Teramo, dove fare la scuola estiva e dove prenderci anche dei momenti di riflessione. Ci spostiamo adesso a Spoltore, dove ci saranno tre giorni dedicati ad approfondire una delle pagine di storie più importanti della nostra regione, il brigantaggio. Infatti a Spoltore domani e fino a domenica appuntamento con la notte della brigante. Tre serate per questa settima edizione con l'apertura venerdì 4 agosto dedicata al brigantaggio abruzzese con la presenza di Mario Cimini, docente della D'Annunzio, direttore della collana brigantaggio della casa editrice Rocco Carabba e Elsa Flacco, autrice del romanzo Un palmo e mezzo sottoterra. Si proseguirà con altri interventi il giorno successivo con Valentino Romano, Vincenzo Guli, Vincenzo D'Amico Editore e poi la presenza di Magdi Allam, che è un po' il fiore all'occhiello di questa settima edizione. La domenica altri interventi con Massimo Carulli, autore di Tumas e Abbasso la Lega Nord, primo fumetto tratto da un'opera teatrale e poi l'intervento di Luigi Iannone, giornalista del giornale, che parlerà di un volume, del suo ultimo volume, l'Ubbidiente Democratico. Tre serate, tre giornate all'insegna della storia con mostre di pittura sugli abiti briganteschi, con persone che arriveranno un po' da tutta Italia e accampamenti briganteschi e dei militari borbonici che potranno essere visitati gratuitamente, come ogni anno, con la guida di un personaggio d'eccezione che è il direttore dell'archivio di Stato di Chieti, il dottor Antonello De Berardinis. Questa è la settima edizione ed è un crescendo di anno in anno. Ora vai è un appuntamento consolidato nella nostra città, ma dell'intera regione Abruzzo. Quindi veramente un gran ringraziamento agli organizzatori perché portano la nostra città ad essere un riferimento. E' uno dei cibi più apprezzati della tradizione culinaria abruzzese. Dal 4 al 6 agosto gli arrosticini artigianali e certificati si potranno gustare a Villapetto di Colle d'Ara nella seconda edizione della Sagra. Quest'anno è la seconda edizione che facciamo, visto la riuscita della prima, abbiamo deciso di provarci e sperando di riuscire anche meglio dell'anno scorso. Cosa prevede il programma? Niente, c'è tanta musica. La prima sera il 4 con apertura a senda alle 19, poi c'è Romeo e Sonora che è un gruppo folk. Il sabato sera ci sarà sempre apertura a senda alle 19, poi un gruppo salentino, poi la domenica un gruppo rock con accessori anni 60. La rosticina abruzzese, autentico e certificato a Villapetto. Sì, il nostro rosticino ha un valore aggiunto rispetto agli altri rosticini abruzzesi, soprattutto c'è delle peculiarità che troviamo solo a Villapetto di Colle d'Ara, per questo che noi amministrazioni siamo molto contenti di dare una mano a questi ragazzi per l'organizzazione della Sagra. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo con la Serie B, sorteggiati i calendari del campionato cadetto, scopriamo insieme quale sarà il cammino del Pescara. Un inizio di campionato da brividi per il Pescara. Prima giornata Pescara-Foggia e sarà subito spettacolo l'Adriatico-Cornacchia in una gara che ha risvolti a marcord fortissimi per l'allenatore del Delfino Zdenek Zeman e per il DS Peppino Pavone. Proprio loro due hanno scritto con Zemanlandia le pagine più belle del calcio foggiano e la gara contro i Satanelli non sarà come tutte le altre. Come ha confermato la visibile emozione dello stesso Pavone, presente in rappresentanza del Pescara, nel Castello Svevo di Bari, la location prescelta per la presentazione dei calendari. Partita nella quale cercherà di consumare una piccola vendetta sportiva anche il tecnico foggiano Giovanni Stroppa, già allenatore del Pescara nella penultima Serie A, dimessosi dopo circa tre mesi di campionato, sommerso dalle critiche. Pescara-Foggia è anche una gara da antica rivalità sugli spalti. Si diceva di inizio da brividi perché poi il Pescara sarà in trasferta a Perugia contro una squadra reduce da una semifinale play-off, quindi all'Adriatico-Cornacchia arriverà il Frosinone, una delle principali rivali del Pescara per il salto di categoria. Il Delfino sfiderà gli allenatori abruzzesi alla nona giornata, D'Aversa in Parma-Pescara, alla undicesima Vivarini in Empoli-Pescara, alla quattordicesima Grosso in Bari-Pescara e alla diciottesima Camplone in Cesena-Pescara. Circoletto rosso per il 4 novembre, tredicesima giornata Pescara-Palermo, ritorno al Barbera il 7 aprile. Venerdì 25 agosto la opening night con un anticipo da definire, chiusura della regular season il 18 maggio. Si giocherà anche nel pieno delle feste natalizie, la vigilia di Natale il 24 dicembre a Scoli-Pescara e a San Silvestro 31 dicembre a Pescara-Venezia. In questi due casi non ci saranno gare serali. Poi la sosta del campionato dal primo al 19 gennaio, previsti sei turni infrasettimanali, 5 di martedì, 19 settembre Pescara-Entella, 24 ottobre Empoli-Pescara, 27 febbraio Pescara-Carpi, 17 aprile Provercelli-Pescara e primo maggio Pescara-Cesena più il turno prepasquale di giovedì 29 marzo, Brescia-Pescara. Restiamo ancora in casa biancazzurra. Questo pomeriggio test amichevole a Palena per la formazione di Zeman contro la primavera allenata da Massimo Epifani. Vediamo com'è andata. Nell'ultimo test, prima dell'esordio in Coppa Italia con la Triestina, lo stadio adriatico, i ragazzi di Zenec-Zeman hanno superato questo pomeriggio allo stadio degli Angeli di Palena, la primavera di Massimo Epifani, con il risultato di 7 a 0 grazie ad una doppietta di Pettinari e dalle reti di Micastro, Memuschai, Zampano, Perrotta e Capone. Fra le note rilevanti della sgambata con i baby biancazzurri, l'esordio in gara ufficiale con il Pescara del 17enne centrale uruguaiano Elizalde, arrivato dalla formazione del Wanderers Montevideo e su cui avrebbero messo gli occhi alcune formazioni di Serie A. Nel caldo tropicale del comunale di Palena, Crescenzi e compagni hanno dovuto faticare parecchio per il gran caldo e per i pesanti carichi di lavoro di tre settimane di preparazione. discreta nel complesso la prova del Pescara al cospetto di una primavera rinforzata nell'undici iniziale da Dell'Icarri e del Sole e ben messa in campo da Massimo Epifani. Un'ora di gara per il centrocampista Scuola Inter Marco Carraro. Marco Carraro, allora, dall'Inter al Pescara si partirà tra poco per questa nuova stagione in Serie B. Quali sensazioni per te? Le sensazioni sono buone. Abbiamo lavorato molto duramente durante questo ritiro. e siamo riusciti a tenere botta a tutti nonostante i carichi di lavoro elevati e adesso vediamo quando inizia il campionato spero di poter dare anch'io il mio contributo alla squadra. Non conoscevi evidentemente Zeman, se non di fa, ma ora hai provato, stai provando, toccando con mano i duri allenamenti del tecnico Boemo. Come stanno andando le cose? Sì, avevo sentito dei suoi metodi parecchio duri, però sinceramente non credevo così tanto. Però devo dire che nonostante qualche problemino fisico che mi ha tenuto fuori due o tre giorni sono andato abbastanza bene. Quanto riguarda le tue caratteristiche, come ti descriveresti e a chi ti ispiri? Le caratteristiche sono un centrocampista basso davanti alla difesa, mi piace impostare l'azione dal basso e che assomiglio non lo so, però mi sono sempre ispirato a Pirlo come giocatore e niente. Ma Neusen e Valietti, gli consiglieresti Prodo a Pescara? Sicuramente, gli consiglierei questa piazza perché è una piazza molto calda i tifosi sono molto esigenti e penso che si possa crescere molto bene qua. In Serie C invece il Teramo è vicinissimo all'acquisto di Antonio Bacio Terracino. L'attaccante ex Lumezzane presto potrebbe diventare un calciatore bianco-rosso. Intanto sul fronte uscite, dopo quelle di Spighi e Capitanio, ancora non si registrano particolari novità. Il Teramo fa su Antonio Bacio Terracino. L'attaccante napoletano lo scorso anno a Lumezzane, a meno di clamorosi imprevisti dell'ultima ora, presto sarà un nuovo centravanti bianco-rosso. L'accelerata nella giornata di ieri, quando il giocatore ha sciolto gli ultimi dubbi che ne tenevano ancora nascosta la risposta. Su di lui infatti c'erano insistenti sia il Livorno che la Gianna Ermigno, pronte ad accoglierlo per risolvere il problema del gol. Ma il Teramo da giorni era su di lui e questo corteggiamento ha avuto gli effetti desiderati col calciatore che presto fermerà il suo contratto col Diavolo. Andrà a rinforzare una batteria di attaccanti, a ridosso della prima punta che già comprende il giovane Fratangelo e uno degli ultimi arrivi, Giacomo Tulli. Il gruppo è buono, le mie sensazioni sono positive e adesso abbiamo questa partita di Coppa Italia domenica e iniziamo un po' a fare sul serio e vediamo. Adesso all'inizio bisogna solo conoscerci, noi dobbiamo capire quello che vuole il mister e lui deve conoscere i giocatori, quindi piano piano speriamo di entrare in sintonia più possibile. Mi trovo bene, ho già giocato con prime punte con le stesse caratteristiche di Ciro, quindi speriamo di trovare l'intesa più possibile anche in campionato, partite che contano. Mi piacerebbe che, cioè, dar fastidio a tutti comunque, che questo Teramo possa essere una mina vagante. Siamo un po' ancora un'incognita, diciamo la verità, però piano piano speriamo di dare fastidio a qualsiasi squadra. Mi piacerebbe portare l'undici, quindi penso non ci siano problemi. Intanto si continua a lavorare sulle uscite. L'offerta del Modena per Barbuti è stata ritenuta finora troppo bassa e si attende un rilancio di Canarini, che però potrebbero presto perdere Luigi Pavarese come direttore sportivo e vedere rallentate le trattative di mercato. Allora, ecco che potrebbero approfittarne Albinoleff e Ferralpisalò alle prese con la ricerca della centravanti d'area. Per gli altri, invece, ancora calma piatta, anche se con il mese di agosto potrebbero esserci novità legate a rescissioni incentivate per liberarsi di quegli elementi in esubero. In Serie D, invece, è ufficiale il passaggio di proprietà dell'Aquila Calcio. Il 71% del club passa agli imprenditori Fioravanti, Gizzi e Penzi. E a settembre la ratifica dell'accordo davanti al notaio. La squadra con mister Battistini partirà sabato per il ritiro. L'Aquila Calcio passa di proprietà. Questa mattina, dopo giorni di smentite e contatti, finalmente le parti hanno sottoscritto l'accordo che prevede il pacchetto di maggioranza passa per il 71% al gruppo formato dagli ingegneri Fioravanti, Gizzi e Penzi. Dovrebbe essere Fioravanti il nuovo presidente Rosso Blu. L'accordo vero e proprio sarà ufficialmente ratificato a settembre davanti al notaio. Finisce dunque l'era Chiodi, caratterizzato negli ultimi due anni da tante polemiche e difficoltà. Accanto ai vecchi e ai nuovi ci sarà un comitato di garanti formato dal notaio Trecco, dal vice sindaco Liris e dall'assessore Piccinini. A questi dovrebbero aggiungersi a breve altri due componenti che saranno scelti all'interno della tifoseria. Sabato intanto partirà ufficialmente la stagione sportiva dell'Aquila Calcio con il ritiro a Campo Felice agli ordini del confermato mister Pierfrancesco Battistini. Da capire come verrà composta la rosa. Intanto tra i senior il solo Steri e oltre ai baby del vivaio Rosso Blu l'obiettivo del direttore tecnico Gianni e del mister che sono al lavoro è individuare altri giocatori utili alla causa Rosso Blu. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione. Domani mattina a partire dalle ore 8 la rassegna stampa con mattino 6. Il TG6 invece torna domani puntuale. Alle ore 14 è tutto. Buonanotte. Al prossimo episodio Grazie.